Professor Renzetti, oggi presentate questa innovativa tecnica per la cura dell'ipertrofia benigna. Di cosa si tratta? Si tratta di un'evoluzione, di una tecnica che noi già abbiamo messo in essere da circa sette anni, maturando un'esperienza su oltre 500 pazienti. Oggi è un ulteriore upgrade del trattamento. Cioè se prima facevamo solo una vaporizzazione o una nucleazione parziale, oggi praticamente facciamo una enucleazione in toto della zona ipertrofica, cioè di quella che è conosciuta come adenoma. Ovviamente questa parte di prostata viene poi messa all'interno della vescica e da lì poi viene in qualche modo morcellata. Ora, qual è il vantaggio di questo discorso? È che una volta queste prostate di volume notevole venivano approcciate con il taglio chirurgico. Oppure bisognava fare una resezione a volte anche in più tempi. Oggi con questa tecnica chiudiamo il discorso in un'unica volta. Il paziente dopo tre giorni va a casa senza tagli e senza nulla. Può avere qualche disturbo irritativo, qualche processo infiammatorio, ma nulla di che, insomma, che gli impedisce una ripresa della vita quasi normale in pochissimo tempo. E non abbiamo limiti sui volumi di ghiandola prostatica. Inoltre abbiamo anche del tessuto per fare l'esame istologico. Il motivo di orgoglio è che, ovviamente, questo è la fine di un percorso iniziato già da tempo, anche con dei tutor, con dei corsi fatti in giro per l'Europa, e che oggi pongono la ASL di Peschiara come quinto centro in Italia per la messa in opera di questa tecnica.